www.marizopoli.it eccoci qua domani venerdì 16 giugno torno in edicola settimanale Montopadano anche in digitale su www.montopadano.it trovate tutti gli articoli nell'inserto economia e lavoro nella rubrica risparmi e finanza nuovo articolo di Giusy Biondelli, educatore, consulente finanziario e certificato che ci parla di tassi, ci parlerà di tutto quello che sta succedendo in questo periodo nel mondo della Banca Centrale Europea e della Federal Reserve Americana tassi che poi si vanno a ripercuotere su quello che sarà poi l'andamento delle famiglie delle imprese, sugli investimenti, sul rato del mutuo delle famiglie su quello che è, compro casa, non compro casa, faccio il mutuo compro il nuovo macchinario tecnologico per la mia azienda in base ai finanziamenti quindi si ripercuote sull'economia una buona lettura domani, venerdì 16 giugno alla prossima!